I trasporti sono stati il settore più colpito dai rincari del nuovo anno e così il comune di Bari ha pensato ad una misura per rendere più accessibile e conveniente l'uso del trasporto pubblico. Con un post su Facebook infatti, il sindaco del capoluogo pugliese Antonio De Caro ha annunciato che nel 2023 utilizzare l'autobus in città costerà solo 20 euro per tutto l'anno. Si potrà prendere l'autobus tutti i giorni, ha scritto De Caro, lasciando a casa l'auto e l'ansia di dover trovare parcheggio. Nei prossimi giorni dunque, grazie al programma di sostegno alla mobilità del PON Metro, sarà attivata un'agevolazione speciale per tutti i cittadini che sceglieranno di abbonarsi al servizio di trasporto pubblico dell'Amtab. Il risparmio sarà consistente rispetto alla situazione attuale, il costo dell'abbonamento annuale passerà da 250 euro a 20 euro. Siamo la prima città italiana, continua De Caro, che riveste il ruolo anche di presidente nazionale dell'Anci, ad adottare questa politica in favore della domanda di mobilità sostenibile, garantendo a tutti i cittadini l'accesso al trasporto pubblico locale. Una misura amica dell'ambiente e del portafoglio che rientra in un sistema più ampio che prevede numerosi investimenti sul trasporto pubblico, dall'acquisto dei nuovi autobus a una migliore offerta dei servizi di mobilità. L'Amtab comunicherà nei prossimi giorni tutte le informazioni utili per accedere all'agevolazione.